adesso si inizia bene. Allora, di che ridi? No, ho detto che fra un po' lo devi dichiarare anche te fra un secolo o due, no? Salita, Piero Maggi, giornalista che tiro. Noi ti ho detto sembra la discesa che mi buttano giù. Vabbè, intanto salita la discesa è questa cosa, dipende da dove la prendi. Io penso che è sempre meglio che nessuno ci dà di chi niente perché vuol dire che sei vivo. Ho detto fra 100-200 anni, mica penso di essere vivo fra 100-200 anni. Io ti auguro di vivere il più possibile, nel miglior modo possibile. Quanto è buono. Allora, senti, siamo tornati qui, Evergreen, perché scale mobili, questo tratto soprattutto scoperto è... Un'effermo o una cicola? Un'effermo o una cicola, un bel lavoro di squadra, insomma. Ma no, è un destino che purtroppo io credo sia un problema proprio per come sono state realizzate, perché non coperte si inceppano. Allora, d'altronde, belle arti non vogliono assolutamente che si... Venga qua lei, venga qua. Trova anche degli opinionisti, lei. Un'opinionista. Abito anche nel centro storico. Che ne pensa delle scale mobili che vanno o non vanno? Che secondo me ci fu un errore alla base, secondo me. Ma se le belle arti andavano fatte coperte. Ma se non volevano? Perché disturbavano le mura, mi dice? Allora, questa ammetto che non lo sapevo. Allora, secondo me, però l'ultima parte, quella che si attivano solo quando ci sono le persone, si rompono meno. È vero. Forse allora... C'erano un po' meno perché hanno delle frizioni diverse. E poi... Qui allora andrebbero fatte... Perché sono state fatte completamente nuove. Queste furono fatte da Luccherini, da Luccherini, ma aperte di corsa... Sì. Perché c'erano le elezioni. Lo ricordo. Perché doveva vincere le elezioni. E le vinse. E siccome ce l'ha avuto fuori in un bifragio, sembra che la terra trasportata internamente, presse le cinghie, le catene, le espostò e da allora ha avuto sempre problemi. Però io vi posso... Lo aggiungo solo che ho visto che è un problema comune delle scale mobili. Ecco perché pensavo fosse un problema di quella d'aperto. Perché anche a Cortona non funzionano mai. Per dire... Cioè... Certo. Le scale fisse funzionano, eh. Le scale mobili sono soggette... No, le gambe che non funzionano. Sono soggette a rompersi, eccetera. Visto capitare il centro storico, com'è la situazione rispetto al passato? Si vive bene? Poi c'è qualche... Io... Ecco, mi hanno fatto la stessa domanda per un articolo sulla Nazione qualche tempo fa. Sì. Sul problema della sicurezza, così. E io ho detto che secondo me non c'è un problema di insicurezza. È un problema di insicurezza percepita più che di quella reale. E la faccio breve. Secondo me è dovuta dal fatto che il centro storico, specialmente durante la settimana, al di fuori delle feste, la sera così, essendo tutto chiuso, è deserto. E quindi è quello che lo fa sembrare pericoloso. Perché poi secondo me pericoloso non è proprio anche... Anzi, proprio perché c'è nessuno, quindi... Il problema è opposto portarci gente. Secondo me bisognerebbe far capire... Sono d'accordo con lui, eh. Non so se è possibile, ma bisognerebbe far capire ai commercianti che aprire un negozio la mattina alle 9, forse quando accenta al lavoro è inutile. Forse sarebbe più utile in alcune sere. Mica dico tutte le sere, ma in alcune sere aprirlo la sera. Eh, nel senso... Ma l'inominato come sta? Un pezzo che lo vedo. Chi? L'inominato. Eh, oddio. È il Dringoli. Ah, che ne so, cioè... Ah, beh, so che è andato in pensione, quindi. Ah sì, è andato in pensione. Politica tutto. Quindi credo che meglio il Dringoli sta. Ho capito. Mi può chiamare anche lui come opinionista. Eh, alla mia casa. Lui... Ma politicamente è spostato, ho capito lui. Li conosco bene io. Sì. Ah ha 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 ha. Politicamente... Però intanto non ha risposto male, eh. Eh, che ne è. Ha studiato. Ha studiato. L'avere smesso quella politica, forse, mi ha fatto bene. Oh, allora ha fatto bene lui! Eh, io sì, io, ma sono tre anni e che io ho smesso. Lui fa bene così. Oggi però io te lo dicevo tanto tempo. Stai attento che ti prendono per il... Ci sono arrivato, ci sono arrivato tardi, ma l'ho capito. Ci sono arrivato tardi. Allora... i mercatini insomma hanno portato gente i mercatini secondo me hanno portato gente però io so dell'idea che un mese di mercatini tirolesi secondo me era troppo è stato troppo ah non lo so perché non l'ho vissuto può variare cioè un mese tutto di mercatini tirolesi secondo me fare curioso di capire gli acquisti poi i ritorni per l'economia gli alberghi erano pieni tutto il periodo si dice quindi questo qualcosa fanno effettivamente la città è stata piena di gente sabato e domenica era dove andavi e dove era tutto stra pieno quindi l'ha fatto andiamo a scesa grazie di questo prego grazie di questo incontro le scale tanto non vanno si fa un po' di allenamento ciao